Ciao a tutti, bentornati! Oggi mi sono arrivati diversi pacchi, infatti sto girando diversi video di tutto quello che oggi mi è arrivato perché ero troppo euforica e volevo mostrarvi quello che mi è arrivato Adesso andremo ad aprire il pacco che mi è arrivato dal sito Nike Beauty Ho fatto quest'ordine non conoscendo nulla di tutto quello che ho preso, non conoscendo anche i brand assolutamente Vi dico già che parliamo di skin care low cost che potete reperire sia sul sito ma su Amazon trovate anche delle buone offerte Vi lascio tutti i link qui sotto, in realtà il sito vi porta poi all'acquisto su Amazon Ho preso tante cose, ho approfittato anche di una super offerta Mi sono concentrata prevalentemente sul brand Coconoi, poi ho preso anche altro Come vi ho già detto, prevalentemente sono tutti brand low cost, costano davvero poco C'è anche il brand Detox che è anche molto famoso, su Instagram se ne vede di ogni Dico con noi, ho preso quasi tutto per il viso, a parte questo prodotto per capelli che è un siero Con estratto di noni, di moringa oil e olio di cocco Era 30 ml, il packaging tra l'altro è molto carino, è plasticosissimo, era 30 ml E non lo so, questo l'ho preso perché volevo prendere qualcosa per i capelli, quindi ho preso lui Altro prodotto che ho preso è un olio viso, io non sono un amante degli oli viso Proprio perché avendo una pelle mista, soprattutto nella zona in cui lucido un po' di più Evito di applicare gli oli, come, a parte vabbè, lo struccaggio Però come trattamento, skin care, evito Però quando la pelle è un po' più secca, anche solo nelle zone un po' più secche Tipo questa parte qui che si secca un po' di più Vorrei provare ogni tanto ad applicare un olio viso Questo qui è un olio, sento già il profumo Con all'interno olio di cocco, moringa oil e rucucoil Sta un sacco di cocco E poi anche la vocettina l'ho trovata molto carina Quindi sicuramente è un prodotto super idratante Tra l'altro Coconoi è un brand spagnolo, se non erro Altro prodotto viso è uno scrub viso Con sabbia di Bora Bora, estratto di noni Olio di cocco e acqua del lago polinesiano Questo qui da 100 ml Questo scrub mi ha proprio incuriosito per gli ingredienti E in realtà è sigillato Avendo io pochi scrub, ho detto vabbè, vado anche di scrub È un bel formato da 100 ml, quindi anche parecchio grande E tra l'altro noto una certa, soprattutto di questa linea Bene o male gli ingredienti sono sempre gli stessi Noto quasi sempre olio di cocco, olio di nonoi Bene o male sono loro Altro prodotto che ho preso è il Coconut Cleansing Oil Ed è un olio struccante Visto che sono in fissa con la doppia detersione Ho voluto prendere anche un bellissimo formato da 250 ml Di olio struccante con anche lui all'interno Olio di cocco, olio di riso, moringa oil e vitamina E Visto che, come vi dicevo, amo sfamando gli oli struccanti Assolutamente l'ho voluto prendere Perché mi incuriosiva Mi piace anche il fatto che ci sia olio di riso Dovrebbe anche donare una certa luminosità I packaging mi piacciono molto A parte la plastica Però sono molto carini Poi per il prezzo che hanno Li trovo carinissimi Infine, ultimo prodotto di Coconoi È una crema viso Ed è la Kaupe Flowers Calming Cream Ed è una crema, credo, lenitiva Con all'interno Kaupe Flower Quindi fiori di kaupe Acqua di fiori Olio di cocco Estratto di noni Monoi oil Olio Acqua del lago polineziano Quindi bene o male, come vi dicevo Contiene quegli ingredienti lì Dovrebbe essere una crema lenitiva Ah, bellissimo il packaging Quindi si va a pushare su questa parte qui E viene fuori il prodotto Questo qui è da 50 ml Se siete delle amanti della fragranza al cocco Questi prodotti potrebbero piacervi un sacco Questo qui pesa anche di fiori Io che poi amo le fragranze fiorate Questo packaging poi è davvero carinissimo E bello Meno plasticoso degli altri Poi passando ad un altro brand Ed è il brand Cool Metics Ho scelto anche qui un bellissimo formato importante Da 175 ml Ho preso un balsamo struccante In realtà pensandoci poi Ho preso l'olio Il balsamo forse poteva anche non servirmi Però alla fine Veramente le ho pagati poco 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 E si presenta chiaramente come burro Che dovrebbe poi sciogliersi Una volta scaldato sulle mani Dice che c'è all'interno Moringa, calendula Quindi buono anche per le nire Carité 99% di ingredienti naturali Vegano Senza solfati Senza parabeni Senza paraffina E senza siliconi Cruelty free Vabbè quello mi sembra il minimo Mi sembra interessante Infine del brand Biod Anche questo non conosco Un prodotto trattamento contorno occhi L'altro anche credo Sempre un contorno occhi Alla fine sono andato un po' così Un trattamento occhi concentrato Da Questo qui è un formato piccolino Da 15 ml Quindi una sorta di siero contorno occhi Ed infine Sempre un trattamento contorno occhi Però credo sia una crema contorno occhi Se non ho capito male Ed infatti è una crema contorno occhi Che volendo si potrebbero anche utilizzare Si potrebbero anche utilizzare insieme Tutto quello che ho scelto Ci sono andata ad occhi chiusi Ad intuito e ad istinto soprattutto Non conoscevo nulla Non so Vedremo E questo era tutto il mio ordine fatto Da Annike Beauty Vi lascerò giù i link a questi prodotti Soprattutto i prodotti di Coconoi Mi incuriosiscono un sacco Non vedo l'ora di provarli E nulla Io come sempre vi mando un bacio E ci vediamo presto Ciao